X Factor 2019 X Factor 2019 i nostri di partenza do giovedì 12 settembre inizia l'edizione numero 13 al tavolo dei giudici una giuria quasi completamente rivoluzionata torna Mara Mayunki insieme a tre nuovi ingressi Malika Yen il cantante, autore frontman dei subsonica Samuel e la rap star Sfera e Basta un quartetto inedito che segna per la prima volta nella storia di X-Factor un cambiamento così radicale ma anche eterogeneo che porta a tavolo una grande varietà di voci, storie e idee per rappresentare al meglio il panorama musicale contemporaneo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto Grazie